I carabinieri del Noe di Lecce, il nucleo operativo ecologico, al termine di un'ispezione ambientale avvenuta all'interno della sede operativa di una cooperativa agricola di Scorrano, hanno sottoposto a sequestro preventivo d'urgenza due aree di 600 metri quadri complessivi, all'interno delle quali erano stati lecitamente sversati rifiuti speciali pericolosi ma anche non pericolosi. Nello specifico si tratta di soluzioni acquose di fanghi prodotti dalla operazione di lavaggio, pulizia e sbucciatura delle olive. L'operazione rientra nelle consuete attività di monitoraggio finalizzata a verificare il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti dalle aziende agricole. A conclusione del controllo, il socio amministratore della cooperativa è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Lecce per l'ipotesi di reato relativo alla gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non. Oltre all'autorità giudiziaria, per i provvedimenti di specifica competenza, è stato dato avviso anche le autorità amministrative interessate da simili situazioni.